Questo programma è offerto da... Amici di Cacciatori Veri, buongiorno. Siamo qui ospiti nell'ATC 18 Siena insieme al dottor Morimando per introdurre un nuovo progetto portato avanti dall'ATC e dallo staff del dottor Morimando che riguarda una nuova tecnica di censimenti attraverso una nuova tecnologia legata alle fototrappole per la specie capriolo rispetto ai metodi convenzionali nella fattispecie, nell'ATC 18 di quello in battuta. Ecco, introduco il dottor Morimando con un ringraziamento per averci ospitato qua e per un augurio iniziale ci vuole perché questo progetto vede una grande condivisione nel mondo dei cacciatori, degli agricoltori e anche degli ambientalisti. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi. La rivedo volentieri dopo tante fatiche nel bosco e adesso iniziamo appunto a parlare di questo progetto. Ecco, questo progetto è stato condotto da lei e dall'ATC 18 Siena 2 è stato approvato dalla provincia di Siena come un metodo sperimentale in previsione appunto di un possibile cambiamento di rotta nella gestione e quindi naturalmente nel monitoraggio delle popolazioni di capriolo. Ecco, è stato appoggiato da agricoltori, cacciatori e ambientalisti quindi c'è una condivisione di questo progetto e un po' da tutte le parti in causa. Ecco, lei ha iniziato questa nuova tecnica del fototrappolaggio quanti anni fa? Ho iniziato nel 2000 nel parco regionale del Corno alle Scale nel Bolognese e allora si utilizzavano le fototrappole a pellicola e iniziai perché leggevo delle riviste americane e lì il fototrappolaggio era molto utilizzato e intuì le potenzialità di questa tecnica nel cogliere aspetti, comportamenti e immagini di animali molto illusivi. Allora mi occupavo sempre di ungulati, del Corno alle Scale però iniziai a fototrappolare il lupo. Quindi carnivori? Carnivori, quindi perché era una specie che mi aveva affascinato soprattutto perché si vedevano tanti segni di presenza ma non si riuscivano mai a vestare gli animali. Quindi la fototrappola? La fototrappola in qualche modo registrava che nella zona di marcatura poi c'era passato effettivamente un maschio adulto di lupo e la cosa era veramente intrigante. Nel 2002 poi ho fatto un primo approccio sperimentale sempre con le fototrappole a pellicola nell'oasi amiata per cercare di vedere la potenzialità del fototrappolaggio rispetto al censimento del cinghiale quindi al conteggio delle impronte dell'indice chilometrico d'abbondanza che veniva fatto e utilizzai appunto le cam tracker a pellicola e nonostante il problema della pellicola perché il grosso limite era dato dal numero di pose che fino a 36 pose si potevano scattare le immagini oltre bisognava andare e quindi sostituire il rullino e il rullino poi andava sviluppato quindi c'era un costo di sviluppo, costo d'acquisto e nonostante queste controindicazioni di carattere economico e pratico mi resi conto che la potenzialità erano enormi perché il fatto di poter avere una documentazione visiva dell'animale o degli animali che transitavano in una zona che si fermavano a mangiare era un dato per uno zoologo, per un tecnico faunistico per un cacciatore era un dato incredibile soprattutto anche tenuto conto che dava l'orario esatto in cui gli animali si trovavano a transitare e quindi dava delle importanti informazioni ecco infatti al fine di poter stabilire dati certi di un censimento voi avete tre priorità quello di stabilire il numero, la densità e la struttura di una popolazione esatto e naturalmente la tecnologia vi è venuta molto incontro perché lei parlava appunto di pellicole però adesso il digitale vi ha permesso esatto, noi nel 2006 quando c'è stato il boom di sviluppo delle macchine fotografiche digitali e quindi dell'applicazione nelle fototrappole abbiamo iniziato grazie anche a un contributo della regione toscana che ha creduto nel progetto il fototrappolaggio sul cinghiale per fare i censimenti e come vedete avevamo questa prima dotazione un po' voluminose e pesanti un po' voluminose e pesanti che avevamo acquistato in America e che ci portavamo dietro per andare nelle zone dove venivano gli animali pasturati nei governatori, nelle zone di foraggiamento e abbiamo ottenuto così le prime sequenze le prime immagini per i conteggi del cinghiale e dal 2006 la tecnica si è evoluta e abbiamo aumentato il numero di fototrappole nel 2008 abbiamo presentato i nostri risultati a un convegno internazionale in Ungheria dove la cosa ha avuto un discreto seguito successo e nel 2011 anche approfittando del fatto che nel frattempo le fototrappole si erano miniaturizzate la tecnologia quindi portare 10 o 15 di queste fototrappole che pesano mezzo chilo l'uno nello zaino era un discorso portare 10 o 15 di queste è un altro nel 2011 abbiamo proposto all'amministrazione provinciale di avviare un progetto sperimentale in forza dell'esperienza che ci eravamo fatti sul cinghiale anche per cercare di fare il fototrappolaggio sui cervidi in particolar modo sul capriolo affiancando alla tecnica del fototrappolaggio le battute su area campione per vedere quale discostamenti c'erano nei risultati che si potevano ottenere ovviamente si è cambiato l'approccio sperimentale perché mentre nel caso del cinghiale noi utilizziamo una zona dove gli animali vengono attirati e in base ai dati che abbiamo in letteratura sugli spostamenti medi del cinghiale riusciamo a contare quindi avere un numero di cinghiali per unità di territorio nel caso del capriolo la cosa non è fattibile come facciamo per il cinghiale in quanto il capriolo intanto non può essere attirato con il mais per il semplice motivo che se mettiamo del mais i primi animali che arrivano sono i cinghiali estrici e tassi non c'è il capriolo certo è un ambiente completamente differente un ambiente completamente differente e quindi abbiamo pensato a un modello sperimentale di rete di fototrappole che in qualche modo potesse catturare gli animali di transito di passaggio che nel periodo primaverile iniziavano a impossessarsi di quel territorio ecco adesso dottor Morimando le volevo chiedere un qualcosa più sul tecnico ecco che metodo avete utilizzato per sfruttare sia questa tecnologia sia il progetto in fase proprio di inizializzazione beh essendo un approccio di tipo sperimentale noi dovevamo in qualche modo validare la tecnica rispetto all'approccio standard che veniva fatto cioè del censimento in battuta dal momento che le battute erano sono delle aree campione di bosco di circa 20 ettari che vengono ispezionate da un fronte di battuta di cacciatori si è utilizzato una rete di fototrappole e con diciamo alcuni tentativi di errori si è visto che il rapporto giusto era di una fototrappola ogni due ettari di territorio boscato poste a una distanza dai 150 ai 180 metri posizionate opportunisticamente nella zona dove erano presenti più segni di presenza del capriolo marcature fregoni e il trucchettino che abbiamo utilizzato era stato quello di mettere un blando attrattivo di pasta di sale all'anice in modo da attirare il capriolo che si trovasse a passare in quella zona di tenerlo fermo 30 secondi per poter scattare più di una foto perché il punto di forza appunto era il riconoscimento individuale dei capi abbiamo selezionato 5 distretti campione caratterizzati da una grossa percentuale di superficie boscata e criticità dei danni e anche criticità dei danni perché sono stati Chianti Sud Gaiole Chianti Sud Siena Ombrone Nord e Montalcino Est Montalcino Ovest e qui devo dire che la partecipazione dei cacciatori è stata fondamentale perché noi abbiamo portato innanzitutto il progetto ancora prima che all'amministrazione provinciale l'attenzione dei distretti e abbiamo detto quello che erano le nostre intenzioni i distretti hanno aderito diciamo entusiasticamente e hanno aderito anche da un punto di vista e questo va riconosciuto economico perché si sono autotassati si sono autotassati mettendo a disposizione 10 o 15 euro a cacciatore per poter acquistare un certo quantitativo di fototrappole perché il punto di forza di questo progetto è l'alta densità di fototrappole che è stata utilizzata per cui noi andiamo a posizionare in un bosco di 20 ettari 10 fototrappole in contemporanea che rimangono attive per 5 giorni consecutivi 24 ore al giorno e quindi l'approccio che abbiamo seguito ha consentito di avere i primi risultati che potevano essere confrontati direttamente con le battute che una settimana dopo dal nostro intervento di fototrappolaggio venivano svolte in quella stessa area campione ecco dottor Morimando le volevo puntualizzare un aspetto importante una fototrappola ogni 2 ettari significa più o meno una fototrappola ogni 150 180 metri giusto e questo è un aspetto eccezionale nel progetto perché mai era stato fatto nella storia di questa metodologia nuova un intervento così massiccio di fototrappolaggio anche in letteratura in America ci sono studi fatti sul cervo coda bianca col fototrappolaggio e veniva utilizzata una fototrappola ogni 15 20 ettari come densità di fototrappolaggio noi abbiamo puntato su questa rete fitta di fototrappole convinti che fosse il punto di forza cioè dovessimo in un breve periodo di 5 giorni catturare il numero possibile di animali per avere un dato veritiero corrispondente a quella che era l'effettiva densità di animali e quindi nella primavera del 2011 siete partiti sto parlando naturalmente nel periodo che va da marzo a maggio e quando l'home range del capriolo è più limitato è più limitato ecco quindi avete scelto il periodo ottimale diciamo di fase gerarchico territoriale in cui gli animali maschi marcano il territorio quindi si riappropriano del proprio territorio anche le femmine tendono a avere home range più piccoli più risicati in quel modo noi eravamo sicuri che andiamo a contare esattamente gli animali che sono in quella porzione e non altri animali che si stanno disperdendo si stanno muovendo certo ha preso due mesi di tempo e poi avete scelto naturalmente di diversificare il discorso battuta anticipandola e il fototrappolaggio dopo giusto? si ecco per non creare degli scombussolamenti certo nell'ambiente nell'ambiente nel comportamento degli animali che avrebbero potuto certo in qualche modo essere influenzati certo ecco i risultati sono stati eccezionali sì ecco sia come quantità si parla di 450 fotografie e 96 caprioli diversi sì riconosciuti individualmente con una una risoluzione del 90% quindi su 10 caprioli che fotografiamo ne riconosciamo 9 che è una un risultato eccezionale e nella stessa negli stessi conteggi e nelle stesse battute abbiamo contato 94 caprioli in battuta dei quali però abbiamo una forte approssimazione per quanto riguarda l'attribuzione del sesso della classe infatti questo problema dell'approssimazione era stato qualcosa che avevano sollevato a suo tempo gli agricoltori sulla possibilità che questo metodo poteva teoricamente essere un po' soggetto perché come dice il metodo stesso dal momento che si basa sull'osservazione è un criterio di tipo soggettivo e la soggettività può essere data da buona fede nel cercare di riconoscere o tra virgolette mala fede nel contare più animali o meno animali rispetto a quelli che effettivamente si vedono e questa era una delle principali accuse che venivano fatte dal mondo agricolo nei confronti del diciamo dei cacciatori che erano impegnati nell'attività di censimento in quanto dicevano sì ma voi non siete parte terza rispetto voi contate gli animali avete comunque un interesse più o meno nascosto ecco leggendo i vostri risultati nelle tabelle leggo che la fototrappola ha censito 29 capi per 100 ettari contro i 24 della battuta si parla di un 20% circa in meno questi sono dati interessanti è molto interessante perché noi prima di iniziare avremmo pensato il contrario cioè che la battuta in qualche modo contasse più animali rispetto al fototrappolaggio in realtà si è visto che questa forte densità di fototrappole dà ottimi risultati tanto è vero che conta più animali rispetto alle battute non tanti di più i risultati sono paragonabili ma dove è il punto di forza è il grado di risoluzione nella struttura nell'identificare gli animali quindi il sesso la classe ed è proprio sul sesso che sono venute le sorprese più grandi perché quello che si è visto è nel rapporto sessi noi abbiamo densità di popolazioni ottimali e si è visto che nel rapporto sessi c'erano delle discrepanze in quanto con le trappole fotografiche avevamo un rapporto sessi di 0,85 quindi vicino molto vicino all'uno teorico 1 a 1 di popolazione vitale di capriolo nel caso delle battute avevamo un rapporto sessi di 0,58 che è quasi la metà che ovviamente un po' preoccupante per chi deve poi andare a stilare un piano di abbattimento soprattutto non era coerente con l'alta densità di popolazione cioè un rapporto sessi di 0,58 è tipico di una popolazione destrutturata quindi di a bassissima densità per intenderci e quindi con dei problemi che non esistono che non esistono grazie a questa indagine questo ci ha fatto capire che il fototrappolaggio si avvicina più alla realtà rispetto al censimento in battuta certo ora questo studio che avete fatto lo avete presentato alla provincia ecco con che scopo qual è il futuro di questo che ipotesi possiamo dare dunque l'ipotesi è che progressivamente il fototrappolaggio diventi lo strumento principe diciamo nel conteggio nell'indagine nel conteggio dei cebidi così come è diventato per il cinghardo perché questo ci dà maggiore robustezza dei dati più oggettività il che non significa che i cacciatori debbano abbandonare l'attività di conteggio o di censimento i cacciatori possono raccogliere altri tipi di dati che possono in qualche modo essere di rinforzo al fototrappolaggio ma questa è una cosa che riteniamo il censimento in battuta ha dei limiti strutturali che a distanza nel 2012 con la tecnologia che abbiamo a disposizione sono limitanti limitanti e sono soprattutto superabili con l'avvento di questa tecnologia quindi noi la nostra idea è quella di estendere il fototrappolaggio a tutti i distretti boscati sostituirlo al metodo della battuta e affiancare al fototrappolaggio l'osservazione diretta da punti fissi per avere perché diciamo a differenza di quello che succede nel censimento in battuta il cacciatore ha più tempo per contare vedere e identificare gli animali mentre il censimento in battuta la cosa non avviene perché siamo di fronte a un avvistamento fugace di un animale in corsa certo quindi il dato è poco attenzibile soprattutto anche di un osservatore affaticato perché non più preoccupato a non cadere magari a non cadere o a non farsi del male e poi dal momento che noi siamo freschi alla prima battuta quando arriviamo alla terza o quarta battuta prevale la stanchezza quindi la lucidità non è più la stessa ecco questo vostro progetto sperimentale che possiamo chiamare un progetto pilota per la specie capriolo avrà bisogno di un'approvazione quindi siete in attesa di un'approvazione dalla parte noi siamo in attesa dell'approvazione da parte della provincia abbiamo con soddisfazione diciamo visto che il fototrappolaggio è stato inserito nel PRAF nel piano regionale faunistico agricolo e faunistico della regione toscana come metodo su cui investire per portare a censimenti più accurati le popolazioni diungulati e quindi siamo fiduciosi che la cosa possa in qualche modo avere una prospettiva su ampia scala ecco dottor Morimando venendo ai principali vantaggi di questa indagine mediante fototrappole rispetto al metodo di censimento in battuta il primo vantaggio che mi viene in mente è una maggiore efficienza nella valutazione dei dati quantitativi sulla popolazione del capriolo rispetto al metodo della battuta e quindi una maggiore obiettività e affidabilità dei risultati giusto? sicuramente perché l'oggettività nella natura stessa intrinseca delle fotografie che sono documenti oggettivi non contestabili insomma mentre i pareri riportati dagli osservatori per quanto possano essere però sono sempre visioni soggettive e quindi questo vi pone anche in una posizione di vantaggio rispetto alle critiche eventuali degli agricoltori o dei cacciatori o delle istituzioni perché sono dati inopinabili esattamente esattamente questo è un grande punto di forza del metodo poi io ho pensato anche ai minori costi che si devono sobbarcare i cacciatori per poter fare così tanti censimenti però ecco parlando invece dei minori costi vostri su questo invece magari diciamo che a parità di costo si ottengono risultati migliori però in realtà quello che c'è dietro è un lavoro piuttosto importante perché rispetto al collezionare delle semplici schede di osservazione il gestire il fototrappolaggio su grande scala come viene fatto oltre all'acquisto dell'attrezzatura che va fatta quindi attrezzatura batterie schede di memoria però abbiamo visto che i cacciatori hanno partecipato entusiasticamente quindi sono in grado di ammortizzare questo tipo di costo c'è ovviamente una mano d'opera un know-how alle spalle ci vuole un disegno sperimentale bisogna andare sul campo a piazzare le fototrappole e poi bisogna soprattutto elaborare le foto quindi avere parecchio più tempo per lavorare quindi diciamo da un punto di vista prettamente economico è un metodo che potremmo definire più caro però io sono anche dell'avviso nella ricerca come in tanti aspetti della nostra vita che chi più spende meno spende cioè alla lunga intanto avendo acquisito una determinata attrezzatura hai un prezzo un costo di ammortamento nel corso del tempo quindi uno ammortizza le spese e poi la migliore qualità dei dati è sicuramente un vantaggio aggiunto che può valere questo investimento ecco questo era importante dirlo proprio perché si può aiutare anche altre altre ATC che fossero interessate a perseguire questo metodo nel futuro ecco ci sono degli aspetti da dover tenere bene in considerazione quindi un discorso di economico ma anche di personale di personale cioè è una cosa che non si improvvisa ecco quindi ci vuole un attimino però i risultati sono eccellenti eccellenti ecco questo quindi ecco poi mi veniva in mente un'altra importante cosa da dire qui con questo sistema abbiamo un minor disturbo alla fauna selvatica tutta quindi non solo alla specie in questo caso del capriolo ecco si disturba molto meno sicuramente perché il censimento in battuta lo sappiamo benissimo presuppone un fronte di 30 40 50 persone vocianti all'interno di un bosco e questo chiaramente crea un disturbo crea un disturbo nei confronti di tutta la fauna e quindi anche parliamo anche di una fauna in un periodo abbastanza critico in un periodo primaverile critico sicuramente diciamo che è un'attività impattante e il fototrappolaggio assolutamente lo evita certo ecco poi avevo anche elencato minori rischi di incidenti ai cacciatori e anche rischi di incidenti stradali perché spesso le battute vengono fatte anche in zone dove c'è transito i cacciatori sono obbligati a dover entrare in boschi intagliate e quindi anche questo è un aspetto da dover tenere in considerazione questa è una metodologia chirurgica che consente di avere risultati migliori con uno sforzo di personale che è infinitesimo rispetto alle battute perché se noi pensiamo anche a una provincia come quella di Siena 3ATC che nel periodo di marzo e aprile devono compiere 30-40 censimenti in battuta coinvolgendo 600 cacciatori e sono 300 macchine che si spostano quindi rischi certo e quindi è tutto un sistema che in qualche modo viene rivisto per una migliore selettività che poi va contro anche il concetto della caccia di selezione e poi c'è anche un piccolo grande aspetto è che nel contempo con il fototrappolaggio si possono anche monitorare altre specie ecco questo sono le sorprese e le curiosità perché noi l'occhio elettronico la rete di occhi elettronici non è che è selettiva sul capriolo coglie tutti gli animali che si stanno spostando in quel momento quindi uno lo potrebbe anche utilizzare per esempio per ottenere dati di densità sul cinghiale quindi ottenere stime di densità di ungulati anche diversi rispetto al capriolo così come il cervo così come il daino e anche a mammiferi carnivori come la volpe e in qualche occasione anche il lupo certo e quindi si spanderebbero anche un po' i costi cioè il beneficio in questo senso si potrebbe ammortizzare utilizzando i vantaggi su più specie certo poi so che in questa operazione avete avuto anche piccole sorprese siete riusciti anche a osservare animali che è difficile osservare ci sono stati per esempio degli scatti sui gatti selvatici sulle martore poi tutti gli animali notturni istrici, tasso colombacci abbiamo una casistica infinita di animali che sono stati colti dalle nostre fotografie quindi un database anche importante pensandola nel futuro perché usando tutti gli anni questo sistema si acquisisce anche una data diciamo che può diventare un sistema di monitoraggio faunistico che se steso a larga scala crea una banca dati molto robusta ecco dottore io la lascio agli altri impegni la ringrazio veramente ringrazio lei il presidente e tutti quelli che hanno collaborato a questo importante progetto e vi rinnovo il nostro augurio di Cacciatori Veri a proseguire e a poter avere anche altri progetti ospiti nella nostra trasmissione tv grazie a voi arrivederci e auguroni questo programma è offerto da grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti